Buongiorno! Ciao! Allora vieni qui Carlotto, mettiti un po' più in qua, mettiti qui, ecco, qui, 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 ok. Tu come ti chiami? Stefano, quanti anni hai Stefano? 16 adesso, faccio segno. 16 adesso, quindi ne hai 15? Ne ho ancora 15. Ma perché lei ne ho 14, quasi 15 ieri? Ma hai immossi i capelli? Sono i miei questi. Ah li hai lasciati andare, ieri le avevi stirati? Eh, sei meglio così. Devi essere più naturale, non devi... Mi tiri fuori la voce oggi? Eh? Sì. Allora, lei ha, si chiama Carlotta, di cognome? Gentilini. Gentilini. Sei di Venezia? Mestre. Mestre. Tu? Ecchio di Mestre, Stefano Sclaudic. Ma come vi siete conosciuti? Eh, perché studiamo nella stessa scuola di musica e dunque ci siamo trovati, abbiamo la stessa passione. Ah, ok, ok, aspetta che andiamo in diretta anche oggi. Allora, aspetta, eh. Allora, qui Carlotta è tornata con il chitavistatore. Allora, eh. Allora, come si chiama Casa Cantone? Strong devotion. Strong? Devotion. E cosa vuol dire? Devozione forte. E cosa canti in questa canzone? Cioè, descrivo l'amore che ho per la chitarra. Ah, e perché? Cosa significa per te questa chitarra? Significa come un secondo respiro. Ok, vai con Stefano. Significa appare! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti